Stoppato per la seconda volta l'aumento del 30% del costo dei biglietti di accesso a musei e siti archeologici della Sicilia. Il decreto era stato firmato proprio nei giorni scorsi dall'assessore regionale Francesco Scarpinato che ieri pomeriggio, a seguito dell'ennesimo intervento del presidente della regione, Renato Schifani, ha dovuto correggere il tiro ridimensionando gli aumenti previsti. Tutto ciò dopo che già nello scorso mese di ottobre Scarpinato era stato costretto a bloccare il decreto a seguito del richiamo di Schifani che non aveva gradito la fuga in avanti del proprio assessore rispetto ad un provvedimento del quale non era stato messo a conoscenza. Disse appunto che il governatore della Sicilia pare sia tornato a manifestare nei giorni scorsi e che ha portato l'assessore ai beni culturali a rettificare ieri pomeriggio il decreto dimezzando di fatto gli aumenti inizialmente previsti. Ne viene fuori un quadro in cui emerge quantomeno un deficit di comunicazione all'interno della giunta regionale al di là della questione strettamente legata agli aumenti che in alcuni casi erano comunque eclatanti. L'ingresso ai siti archeologici di Selinunte e Segesta sarebbe passato da 6 a 14 euro e invece adesso costerà 10 euro. Lo stesso importo pagheranno i turisti che dall'1 gennaio visiteranno la Valle dei Templi di Agrigento mentre per il Museo archeologico sempre d'Agrigento il costo del ticket sarà di 9 euro. L'assessore ai beni culturali comunque non demorde a contenuto gli aumenti per il 2024 ma ha già previsto un ulteriore incremento del 15% a partire dal 2025. Grazie 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 Grazie